Etna Comics e anche cinema e oggi c'è un'anteprima che attendevamo parecchio ne parliamo con il regista Davide Gentile e l'attore ovviamente Edoardo Pesce Davide, bentrovato Ciao, grazie di averci qua Sono felicissima di questo perché fra l'altro è il tuo primo lungometraggio la frequentazione con la telecamera c'è da un bel po' però questo è il tuo primo figlio materialmente Sì, frequentazione dietro la telecamera quindi è una prima volta anche davanti alla telecamera qua in Sicilia è la prima volta che vengo in Sicilia nella mia vita tra l'altro quindi giusto da dire, ho perso la domanda però Stavamo parlando di questo primo lungometraggio che è il tuo primo figlio effettivo anche se hai fatto altri lavori però devo dirti che mi sono turbata sul non sono mai venuto in Sicilia Eh, lo so e mi spiace Comunque sì, primo film sicuramente ambizioso sicuramente un'opera ricca di spunti e di angoli da cui poterla guardare quindi stasera prima nazionale sono contento di essere in Sicilia la prima volta a presentare il mio primo film Che bella cosa Poi sulla Sicilia ci torniamo perché si può sempre migliorare nella vita fare tanti viaggi, stare molto tempo pure tu la prima volta in Sicilia, no? No, io non la conosco bene la Sicilia a Palermo ci ho girato qua a Catania abbiamo fatto una serie che si chiama Squadra Antimafia sono stato un mese e mezzo, tra l'altro poi qui a Ci Trezza e a Palermo pure non conosco bene conosco bene la Sicilia meno male film veramente speciale perché tutto ruota intorno a Walter un bambino di 13 anni che come ogni bambino di 13 anni ha le sue paure, le sue insicurezze è una condizione particolare gli manca un mito? gli manca il papà il papà mito, giudicato e poi in qualche modo perdonato e Walter si troverà davanti dopo questo bellissimo viaggio alla scelta davanti alla quale si è trovato suo padre e non diciamo cosa sceglierà però ecco è portatore di buone emozioni e buoni propositi ecco questa scelta i film non vanno mai lo spoilerati si dice in gergo però chiaramente il titolo fornisce un indizio importante a livello proprio simbolico lo squalo lo squalo, beh anche il trailer diciamo ci sono già degli elementi che sono stati sdoganati dalla nostra comunicazione lo squalo, Walter a inizio film dopo 5-6 minuti si ritrova in questa villa abbandonata non per caso ma lo si scoprirà dopo il perché e all'interno di questa piscina c'è uno squalo e da lì nasce questo rapporto così un po' metaforico in alcuni sensi in alcune modalità inizialmente di paura, di terrore poi diventa curiosità e poi diventa accudimento Accudimento che parola meravigliosa anche se dell'accudimento in un certo senso si occupa già il corsaro a modo suo no? Sì diciamo che lui rappresenta appunto la parte predatoria della società se vogliamo dire può essere metafora di quello che che spinge il ragazzo a dire nella vita devi avere appunto i denti che è anche un po' uno specchio un po' di giorni d'oggi un po' che nella società ti chiede un po' di essere un po' performativo un po' aggressivo insomma e quindi il corsaro fa questo poi il corsaro era amico del papà quando eravamo cresciuti insieme poi lui fa un'altra scelta di vita e il papà di Walter un'altra e quindi poi lo squalo nel finale insomma si vedrà da quale parte sta anche lui o meno però No, fra l'altro chiaramente dico hai scelto per interpretare il corsaro colui che in questi anni è stato scelto da tanti registi forse tranne da uno perché negli indifferenti avevi un ruolo completamente diverso che io ho molto amato anche Alberto Sordi sono un po' Jesse la Jessica Rabbit dei No Antri però ti sei definito pesce rosso con la pinna da squalo è bellissima questa definizione è vero quella sì perché c'ho la foto c'ho la foto sul profilo che è un pesce rosso che è mascherato e quindi potrebbe anche essere inerente al film direi di sì ma lo è anche Edoardo che si copre o anche i ruoli che interpreta hanno questa a volte cattiveria o sono un po' lungo ma la colpa è dei registi però lo disegnano così quindi la colpa è vostra è chiaro no? eh sì è certo perché poi in realtà è un patatone quindi è un tenerone come un pesce rosso questo papà da inseguire in questo film che diventa un mito tu con il tuo papà invece come te la cavi? ma nella vita? nella vita? eh mi trovo bene cioè siamo tanto legati cioè siamo molto legati ci facciamo magari le coccole cioè siamo ancora legati non è che siamo distaccati capito in che senso? e meno male tu ha un fratello gemello Giuliano quindi il legame è anche molto della pomiglia unito quindi hai vissuto un'esperienza completamente diversa rispetto a quella della tua realtà però ti ha guidato Davide in questo gioco che hai fatto no? mi ha aiutato Davide mi ha aiutato anche a rifiutare sempre meglio perché poi magari ogni volta con i provini magari all'inizio mi veniva da ridere poi dopo alla fine capivo che era una cosa alla fine finta e quindi poi io riuscivo sempre di più a interpretarlo seriamente quindi alla fine la serietà ha prevalso sul gioco sei diventato un attore anche tu? sì più o meno sì perché ci stai provando ci sto provando sì d'altra parte stare dietro un obiettivo se pensi che hai davanti uno che ti sta filmando forse forse diventa più complicato e quando ti dimentichi che c'è quella cosa lì che diventa tutto un po' più semplice no? beh allora dipende ci sono persone che magari non sono influenzate da quella cosa persone che magari avere una videocamera è come avere gli occhi di mille persone anche se magari dietro la videocamera ecco per esempio a un provino c'è solo dietro magari la persona che filma ma ovviamente essendo un provino non c'è nessuno dietro intendo ovviamente a livello di numero di persone però se tu ci lavori magari se magari all'inizio sei un timidone piano piano ci lavori ci lavori e alla fine capisci che comunque è una cosa che si può superare tranquillamente e quindi c'è da lavorare ve lo dice uno che quanti anni ha? quasi 17 e quindi lo sta dicendo un ragazzo nemmeno maggiorenne c'è da studiare e da lavorare assolutamente allora buona fortuna al cast a questo film e buona fortuna soprattutto al regista per questa nuova avventura grazie